Salve a tutti gli amici di TechDifferent siamo qui con la power bank usb 12000 mAh di Leitz con un'uscita a 2 usb a 2 ampere quindi garantisce una ricarica veloce come possiamo vedere una power bank davvero molto molto capiente quindi vediamo il retro della confezione eccola qua con le scritte in tutte le lingue andiamo ad aprirla qui sulla parte frontale vediamo subito la batteria ed il cavo per ricaricarla ora la togliamo dalla confezione vediamo contenuta la confezione che consiste nel deployment che presenta i prodotti Leitz eccoli qua andiamo a vederlo un attimino veloce tutti i prodotti o almeno gran parte di essi per maggiore dettaglio ovviamente visitate il sito qui abbiamo anche il manuale di istruzioni multilingua e poi abbiamo il cavo usb micro usb per ricaricare questa power bank anche la power bank stessa che ora andiamo a togliere eccola qua questa la parte posteriore e qui abbiamo la parte frontale con l'ingresso micro usb i 4 led di notifica per vedere la ricarica della power bank e poi il tasto ovviamente per accendere o spegnere e le due uscite usb eccola qua è grande come il palmo della mia mano come potete vedere bene vi ringrazio per l'acqua attese attenzione un saluto a tutti e dalla prossima ciao